L'arte rinascimentale e barocca in America centrale. Le informazioni e le cartografie sono tratte dall'Atlante della storia dell'arte occidentale a cura di John Starr e Anthony White, editore Zanichelli. Il barocco coloniale americano viene anche chiamato barocco virreinal, vale a dire che è un barocco del vicere di Spagna. Infatti la prima chiesa costruita in America fu la cattedrale di San Domingo, attualmente nella Repubblica Domenicana. È stata costruita fra il 1512 e il 1541. Questa cattedrale praticamente è coeva o poco successiva allo sbarco di Cristoforo Colombo. Ed è ispirata alla cattedrale di Siviglia. Ma ancora non è una chiesa barocca perché ha uno stile mescolato fra il gotico, il rinascimento e lo stile arabo. E si chiama quindi questo stile Mudejar. Questa cartina riassume le principali città d'arte del Mar dei Caraibi e delle isole caraibiche. Vediamo che importanti testimonianze artistiche sono a Santo Domingo nella Repubblica Domenicana. Poi un altro centro è sicuramente l'Havana a Cuba e un altro ancora a Porto Rico San Juan. Ora vediamo il centro storico di Santo Domingo. Nella piazza centrale abbiamo il monumento a Cristoforo Colombo. E dietro praticamente la cattedrale di Santo Domingo chiusa nelle sue mura. Ora qui specifico cosa penso di Cristoforo Colombo. Tutto il male possibile anche perché per arrivare a scoprire l'America certamente si è autofinanziato gran parte della spedizione attraverso una sua conoscenza che aveva fatto un bel gruzzolo anche con l'utilizzo della vendita degli schiavi. Per cui si tratta veramente di una impresa coloniale di cui non possiamo certo andare fieri. I nativi hanno un contenzioso con Cristoforo Colombo da un bel po' di tempo. Ora vedete la cattedrale di Santo Domingo racchiusa nelle sue mura perché queste mura è molto semplice. Si tratta di una cattedrale costruita in un periodo ovviamente di impresa coloniale. Quindi sostanzialmente doveva essere protetta dagli indigeni che avevano tutte le ragioni possibili e immaginabili per rivoltarsi e assaltare questa chiesa. Ecco la facciata della chiesa di Santo Domingo trapassate, cioè passando le mura vediamo anche questa grande aquila con due teste che campeggia che è proprio il simbolo della cristianità. Lo stile che noi vediamo all'esterno è uno stile che ricorda la cattedrale di Siviglia. Questo genere di stile viene chiamato in un modo particolare perché è una mescolanza fra lo stile rinascimentale, lo stile gotico e anche lo stile arabo. Quindi questo stile si chiama Mudejar. L'interno della cattedrale invece ha un chiaro segno di stile gotico con queste volte a crociera, ad arco a sesto, acuto e pilastri. Ora vediamo una delle chiese di Salamanca che si trova appunto in Spagna e vediamo come lo stile rinascimentale di Salamanca sia molto simile allo stile che abbiamo visto nella facciata esterna della chiesa di Santo Domingo. Nel XVI secolo in Messico si costruiscono chiese conventi di ordine francescani, domenicani e agostiniani che si dedicano alla predicazione. Ma lo stile barocco vero e proprio inizia nel XVIII secolo con la diffusione dei retabli che sono palle d'altare tutte scolpite. Ora, questa è la cartina delle principali città del Messico che hanno delle vestigia di questa epoca. Quindi abbiamo come centro principale città del Messico con Atlantico, Oaxaca e varie altre città che ora non sto a menzionare e comunque che si trovano appunto tutte nel centro America. L'immagine che ora vedete è quella del convento del monastero di Sant'Agostino a Dalcoman in Messico. Vedete che una parte la facciata è in pietra e il resto è stato dipinto a calce bianca. Quello che vedete invece in questa immagine è il retablo di Nostra Signora della Guadalupe che è una chiesa francescana di San Martín a Tepoztlán nel Messico. Scusate la pronuncia ma è veramente la lingua dei nativi di quella zona. Come è fatto un retablo? Praticamente si tratta di un'enorme parete tutta scolpita in legno è rivestita di foglie d'oro che reca delle statue ma ha anche l'immagine di questa signora della Guadalupe che sarebbe la Madonna apparsa ad un indigeno e che ha un'immagine molto particolare. Come vedete è piena di oro, di fronzoli e via di seguito e poi spesso e volentieri al posto delle foglie di acanto nei capitelli ci sono le foglie o le pannocchie di mais visto che il mais è diciamo proprio una pianta che viene dal nuovo mondo. Il barocco americano viene chiamato anche ultra barocco oppure arci barocco oppure ciurrighesco. non so se la pronuncia sia adeguata comunque praticamente abbiamo i portali delle chiese che sono particolarmente ricchi e decorati e che ricordano i retabli nei loro interni. Ora metto anche quest'altra cartina che praticamente va a sud del Messico e prende il Guatemala il Belize l'Honduras il Salvador il Nicaragua la Costa Rica Panama e poi verso la Columbia e ovviamente le varie città dell'America del Sud centrale del Sud che hanno delle grandi vestigie saranno poi elencate in un luogo apposta in un documento apposta nella Class Room che così nel caso in cui voleste preparare per gli esami qualche cosa che riguarda l'America Latina avrete il materiale che vi serve. Naturalmente le musiche che ho appena messo sono d'epoca rigorosamente d'epoca e sono proprio musiche barocche latinoamericane in particolare questa è la sonata cichitana anonimo del XVIII secolo l'architettura delle colonie spagnole dell'America del Sud in America del Sud l'architettura cambia rispetto al centro dell'America ci sono due stili distinti che riguardano soprattutto il materiale di costruzione c'è l'architettura degli altipiani delle Ande che preferisce come materiale la pietra e i mattoni mentre l'architettura delle pianure costiere del Perù utilizza un materiale che è l'argilla cruda la paglia canne e legno di cactus questo materiale viene chiamato l'adobe il motivo della scelta di questo materiale è che la zona che corrisponde appunto alla vicinanza con le Ande è una zona estremamente sensibile ai terremoti quindi diciamo che questo modo di lavorare è la chincia è un tetto cioè fatto di cane canne legno e gesso pratica frequente per ovviamente ovviare ai terremoti che sono appunto molto molto frequenti devo aggiungere che nei miei viaggi in america latina in particolare sono stata in argentina nel nord dell'argentina verso salta anche l'architettura di quelle zone non è in mattone né in pietra ma in genere in adobe cioè in argilla cruda in questo momento stiamo vedendo il convento di san francesco di chito che si trova in ecuador e l'architetto è un frate di origine fiamminga un certo iadoco ricche 1535 1575 la facciata è abbastanza italianiggiante con queste due con questi due torri laterali ma l'interno è assolutamente ricco e ultra barocco eccolo qui lo vediamo in questa immagine con molte ori e molte magnificenze una bellissima cupola con stelle dorate e blu tutta questa ricchezza serve anche un po' per stupire questi nuovi cristiani che sono gli indios e i meticci gli stili delle chiese dell'america del sud sono più vicini a quelli dell'architettura europea infatti molti architetti scultori e pittori venivano da anversa e da roma in particolare a kuzco in perù nasce una scuola artistica chiamata scuola kuzkenia poi successivamente chiamata così dove venivano realizzate molte palle d'altare da artisti che venivano dall'europa e dai loro aiutanti indigeni e meticci ecco la facciata della cattedrale di kuzco e all'interno abbiamo una pala che ora è conservata nel museo no è sbagliato è nella chiesa di san pedro a lima una bellissima pala di un artista italiano un certo bernardo britti che praticamente veniva da camerino in calabria ed era un frate gesuita questa è un'incoronazione della vergine una tela un olio su tela un pittore italiano padre gesuita è fra i fondatori della scuola di kuzco e si chiama bernardo bitti come ho detto nato a camerino in provincia di macerata nel 1548 e morto a lima nel 1610 il primo artista nativo americano naturalmente che dipinge pale non perché perché gli altri non erano artisti ma erano artisti dell'epoca precolombiana io sto parlando di artista ormai convertito al cristianesimo ed è stato appunto un certo diego chispetito nato a cusco nel 1611 e morto sempre nella stessa città nel 1681 era di una famiglia nobile una famiglia discendente da una famiglia dai nobili incas qui abbiamo il suo ritratto ecco che facciamo una rassegna delle sue opere che sono conservate al museo di arte di lima questa per esempio è un dipinto su un olio su tela è una sacra famiglia vediamo appunto Maria che è intenta affilare la lana Giuseppe aiutato da Gesù Bambino che sta facendo il falegname carpintiere e a un certo punto stiamo vedendo che fra gli aiutanti ci sono due angeli che forse stanno allestendo una croce e sotto tutti gli strumenti che utilizza il falegname si tratta di un'opera del 600 nella pittura della scuola di Cusco ci sono molti riferimenti alla religiosità precolombiana in particolare troviamo che il culto dei santi della Madonna e il culto cattolico viene mescolato e diventa un culto sincretico fra religione cristiana e religione degli antichi incas in particolare è molto sentito il culto della paciamama che è la madre terra e dei suoi figli due figli gemelli un maschio e una femmina ora la Madonna spesso viene rappresentata da questi indigeni come appunto la paciamama e ovviamente non potendo rappresentare i due figli gemelli della paciamama questi vengono rappresentati spesso sotto forma di sole e luna e quindi abbiamo in molte chiese boliviane argentine e peruviane questa Madonna che è una Madonna e nel frattempo anche una paciamama il manto è dipinto di rosso del colore della terra in questo dipinto 6-7 centesco ecco che vediamo la Madonna come la Madonna del Monte del Cerro Rico di Potosi che si trova in Bolivia questo è un olio su tela vediamo che è rappresentata appunto come una grande montagna sulla quale stanno salendo anche persone e greggie di lama c'è anche un cavallo alla destra e alla sinistra vediamo il sole e la nuna e poi i santi e lo spirito santo il calice ed altri ed altri elementi si tratta di un dipinto che ex voto vale a dire un ringraziamento per una grazia ricevuta la colorazione rossa e marrone del manto della Madonna hanno proprio il significato di rimandare alla paciamama ecco per esempio questa Madonna che salva la Vergine del Carmelo che salva le anime del Purgatorio e le porte in cielo questo dipinto si trova nel museo di Brooklyn è stato fatto dalla scuola di Cusco e da un allievo di Diego Quispe Tito cioè il pittore che abbiamo di cui abbiamo finiamo questa lezione con un'immagine del centro storico di Lima e con la cattedrale che è molto preziosa quando vedete poi due torrette due torri campanarie distanziate questo è certamente un modello di derivazione italiana bene spero che la lezione vi sia piaciuta per la cattedrale qui è un'immagine qui è un'immagine Grazie a tutti.